Quindi, sono un po' nozionato. Non metto il motore che faccio, però secondo, quindi... Diciamo, mi presento, mi chiamo Tommaso, lavoro come platform area di vitae, tra i nomi e i tech, siamo un po' fantasiosi nei nomi, però sono una società che si chiama Mia Platform e principalmente lavoriamo a microservizi. Quindi uno dei principali problemi che abbiamo proposto, perché non uno dovrebbe lavorare a microservizi. E qui la documentazione su Google è più che lunga. Da ai componenti dei progetti, ogni micro servizio per essere sviluppato il suo linguaggio, quindi tecnicamente può essere dato in mano a un altro team di sviluppo che magari è più pratico, di Java, mode 1.10, eccetera, eccetera. Aiuta a dividere problemi sotto problemi. Cioè, la primissima cosa che uno bisogna fare è focalizzare il proprio effort nell'integrazione delle parti del prodotto generale, in modo da creare delle aree di competenze e far sì che ogni area di competenza sia un'operazione. Può scalare in maniera indipendente i microservizi, quindi se ho un grosso carico di lavoro verso un'unica area di competenza del mio prodotto, posso scalare quei microservizi che per esempio ritorniscono la login. Se ho fatto per esempio una campagna su Facebook, posso scalare il sito web perché immagino che ci sia un grosso traffico sul sito, oppure sulla login, sulla registrazione perché immagino che appunto aumentando la campagna il traffico cresca. è possibile testare una singola business logic isolata, per esempio la business logic del delivery del prodotto, della consegna di Amazon, per esempio, per essere un microservizio, la posso testare in maniera isolata a prescindere dalla login e quindi togliere complessità durante il test. Rutilizzare i microservizi e sviluppo incrementale di visual. Sono in assetto perché sono esattamente queste le due le vostre criticità che ci sembrano irraggiungibili. Oggigiorno è molto molto difficile trovare esempi di rintiviso dei microservizi. Quanti sviluppatori ci sono qua dentro? No. Quanti lavorano nei microservizi? Almeno ho provato a fare un microservizio. Ok? Quanti hanno mai utilizzato un microservizio? In due, tre. È già buono, è già buono in realtà. Perché è veramente complicato, veramente complicato. E infatti una delle difficoltà è fare questo. Questo è da assolutamente evitare. Qui, per esempio, abbiamo creato un mesh microservizi che ognuno comunica con Rova, ma nessuno ha mai censito con chi comunica qualche cosa. Cioè, se non si censisce le varie comunicazioni, non sto creando, sto buttando su Rova, sul mio cluster, Rova che implementa feature, ma non so se quando voglio implementare una feature c'è già qualcosa che implementa feature. E quindi il rischio di duplicare pezzi di codice da una parte o dall'altra, non so quali servizio creare, eccetera eccetera. Questo, nell'album del mondo dei microservizi, capita ed è, quindi, realizzato. Infatti, uno dei principali, diciamo, in cui l'ingegneria informatica si è sviluppata negli ultimi 40 anni, un bel po', ci ha regalato tutte le metole. Tipo questi principi, l'open process, l'identità software dovrebbe essere aperta all'istensione, ma più quelle modifiche. Cioè io, nel mio ecosistema dei microservizi, quando voglio modificare qualcosa di esistente, deve essere difficile. Quando voglio aggiungere qualcosa, invece, deve essere piuttosto semplice. Quindi, esiste un modo per non creare questo, aggiungendo feature in maniera incrementale? Questa è una domanda, a cui cercheremo di rispondere con un partner antitettorale, che noi abbiamo chiamato i piadietoli, in realtà i piadietoli, è un concetto molto labile, ogni persona lo intende come... cioè, non esiste proprio una definizione precisa, noi abbiamo chiamato un micro servizio del corretto. Perché andiamo a proprio decorare un micro servizio. Facciamo subito un esempio per capire con di che cosa si sta portando. Abbiamo una business logic, in fondo, che il client vuole chiamare. Ok? Ricordate, la principale cosa da tenere in testa è la segregazione. non dobbiamo mettere cose distanti, vicine. Il pattern è più o meno questo. Prima di chiamare la mia business logic, eseguo del codice prima. Poi chiamo la mia business logic. Prima di chiamare la mia business logic, nel ritorno di client, chiamare altro codice. E poi, finalmente, il ritorno. Noi, principalmente, abbiamo chiamato il coratore perché, diciamo, applica il design pattern del corretto. Il componente che sta lì in centro, l'abbiamo chiamato il componente che permetta il design pattern Microsoft. quello in mezzo è il decoratore di microservizio. Un decoratore di microservizio, ma che cos'è un decoratore? Diciamo, adesso, ultimamente. Innanzitutto, cos'è? Un componente. Cioè, non è cose a caso che esistono. È un componente all'interno della propria infrastruttura che può. Quindi, è una headlogger, un server HTTP, una call da cacca, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Principalmente, per fare le azioni. La prima è, riceve una notifica di quando è stata fatta una notifica di una risposta. Cioè, io chiamo la mia business logic dietro, applico il decoratore che descrive, guarda, quando mi chiami questa business logic, qui, notifica l'unio di e-mail. E poi ci sarà la logica dell'unio di e-mail. Quindi, appunto, abbiamo presenti che dobbiamo segreare bene, distinguere bene le implementazioni. Quindi, la mia business logic da l'unio di e-mail. Modificare una richiesta aggiungendo o togliendo i parametri. Cioè, io chiamo la business logic. In realtà, all'API dietro non arriva direttamente la mia richiesta, ma arriva la mia richiesta leggermente modificata. Un esempio pratico di questo è, ci cambio i parametri di search sul database. Per esempio, supponiamo di avere un database che supporti un query con English qualsiasi. e il client sta chiedendo, mi dici tutti i miei preferiti? Quindi, chiama slash i miei preferiti sul unico servizio che permetta la logica dei preferiti. Il unico servizio che permetta la logica dei preferiti deve ritornare tutti i preferiti di tutti gli utenti, ma solo, esclusivamente, dei richiamanti. Dove metto la logica dei filtering? Quindi, domandola? Cerchiamo di costruire. O andiamo a modificare il servizio i miei preferiti, in modo che il controllo intende l'operato, eccetera, eccetera. Oppure aggiungiamo un decoratore di un parè che i miei preferiti aggiunga, come un query filter, user e i miei documenti, in mente corrente. Dopo andiamo a delegare le domande che sono fatte alla fine. Sì, sì. Sicure, in casa. Oppure direttamente non fermare una richiesta. Per esempio, supponiamo che io sto ottenendo una richiesta che non posso fare. Non ho permessi, non ho abbastanza denaro sul mio wallet, non sono in grado... Cioè, fisicamente non posso essere in grado di fare una richiesta. Cioè, che magari ha l'appernation non... E quindi, posso mettere... posso decorare la mia business logic con un pre-decoratore, dopo l'abbiamo degli anni, un pre-decoratore che mi implementi questa regola di blocco, di richiesta. Quindi, io chiamo la mia business logic, in realtà, prima di essere chiamata, chiamo il pre-decoratore che applica tutti i controlli necessari, eventualmente ferma la chiamata, ritornando, guarda, no, non continuare, è un 403, 401, dipende. Oppure, se hai permesso di dicere, ti dice, sì, ok, è tutto posto, continuo tutto. E la mia business logic viene effettivamente chiamata. Una possibile implementazione di tutta questa parte qua, può essere basata su protocollo. Io ho il mio componente, che si chiama mitoservice.decorretto, configurato dopo magari vediamo dei video, ma vediamo sicuramente, in cui al slash, che ne so, faccio un ordine, è configurato per essere, una ricerca, una notifica per i menti, un controllo della procedenza, un controllo della disponibilità delle terapie, ecc. ecc. Vediamo un esempio, come l'abbiamo visto prima, quindi, abbiamo in ingresso, getIncomingCurve . Viene chiamato, per esempio, il regolatore 1, il regolatore 2, viene chiamato businessService, sul getProxedCurve, che è diverso da IncomingCurve, e uno dei due regolatori, ha cambiato da Q uguale a Q uguale a Q. poi viene chiamato il proprio robot, e viene inerito la parte del robot. Una possibile configurazione di questo robot, che poi, positivamente, deve essere in unità di qualche modo, è per esempio questo. Abbiamo la descrizione di tutte le ore, in cambio di loro, in get, prima è definito il pre, i due pre, poi viene chiamata la cosa, su businessService dietro, e poi viene, ehm, regolato il posto e colpare il robot. Qui sotto abbiamo, tutti i, i regolatori ci sono. Come fa a funzionare in maniera generica? Perché ogni API, per esempio, il video dei mail, sicuramente ha un'interfaccia diversa, da controllo sulla rispondità, per vendere, per vendere, una c'ha di vendere, chi se la paga, l'altra parte. Che anche, cosa vi dovrebbero, in realtà, imporre un'interfaccia H2. Nell'altra azienda, abbiamo un posto, una determinata, l'interfaccia H2, che, il servizio, che espone, ehm, i regolatori, in per e in post, devono implementare. è una limitazione, che esposta. No, non è una limitazione. Perché, per ogni tuo servizio, non sono le sue API che espone, non lo sono, ma ha la sua business logica. Se ogni API, io la faccio in post e in get, sono nienze, nienze di resto. L'importante, è la classe che ci sta dietro, il codice che ci sta dietro, che implementa, a login, che implementa l'ordine, che implementa il check della CL, che implementa il check su wallet, che implementa l'ordine, eccetera, eccetera. L'interfaccia HTTP, è solo un handler, per prendere, ma fare, gli input parameter, che sono, body per parameter, reader, in oggetti da passare, alla mia classe di business logic software. Infatti, uno dei famosi pattern, che mi parlavamo prima, è il port, e no, e l'after pattern. E in pratica, questa è l'immagine, la mia applicazione, che ha diverse interfacce, che esporre, ma non c'è solo una. Quindi io, volendo, potrei, esporre più interfacce, per mandare un mail, l'interfaccia, certa, che è il mio servizio, volendo, tratta di chiamare, per detto, e l'interfaccia, in, ma sotto, la logica, teorica. Facciamo un esempio, giusto per chiarirci bene, l'esempio di login. Supponiamo di avere, off-service, e session manager, due microservizi, uno che eroga, dato a una, delle credenziali, e dice, user ID, valamente, non fa niente, e il session manager, implementa la logica, dato, un user ID, mi crea la sessione, e mi dà un SIP di tutti, valutamente. Questo dovrebbe essere, una configurazione, un user ID. che vedete. Io ho, in, in post, una login, che, va a finire, su, off-service, slash-identify. Slash-identify, come abbiamo detto prima, data, un set di credenziali, che può essere, valutamente, username e password, l'access token, di casebook, qualsiasi cosa, eh, qualsiasi cosa, mi ritorna, per user ID, secondo il mio sistema. prima di ritorno ai download, mi crea, mi crea, mi viene chiamata, la case session, cioè, un decoratore, chiamato, the session, che, in realtà, mi chiama, il session manager, decorator, the case session, che, renderà, l'user ID, della richiesta, e, ritornerà, verrà un cookie, con, eh, il sito corretto. Questo pattern, quindi, mi permette di dividere, il servizio di identificazione del utente, che, quindi, può essere, eh, gvt, cookie, access token, cookie, di, qualsiasi, qualsiasi cosa, dallo, mia sessione, la programma. Vediamo, ecco, effettivamente, come potrebbe funzionare, ho fatto, degli esempi, con user ID, password, per chiarire. Nel microservice decorator, accetta, un posto, e, viene chiamato, il servizio di, autenticazione, su, slash, post, slash ID, con, username, e password. Non abbiamo definito, rete provatori, quindi, vado in questo servizio. Viene ritornato, guarda, service, è ritornato, user ID, 1x4. Quindi, se avete corretto, prima di ritornare al client, la risposta di un client di 1x4, che ha un session manager. Guarda, session manager. Mi tenete la sessione per l'utente 1x4? Si. Guarda, una delle cose che poteva fare, ricordo, un decoratore, era modificare, la richiesta, o, la risposta. dei punti viaggiano da un leader, tramite leader, set tutti, quindi, il mio decoratore, può, decorare, aggiungere un leader, set tutti, in risposta. Quindi, il risultato, è, user ID, 1x4, col set tutti, abcd. Voglio implementare, sicuramente, ma abbiamo dichiarato, possiamo implementare il feature, in maniera implementale. il team di sicurezza, ci ha detto, si, ma l'abbiamo in così, un po', poco sicuro. Implementiamo il CSR, token. Il CSR, token, scusate, non lo trovo, ma è la memoria, è un token, unico, che vale una sola volta, e deve essere generato da un server, viene riconato da un client, e per ogni posto della forma, deve essere mandato al server, per, per controllare, che quel token, non si è già aspirato, eccetera, eccetera, noi abbiamo questa architettura, come facciamo, per farlo evolvere? In questo modo, aggiungiamo un 3, che, con l'unica business logic, che è, nel bodice, del CSR, del token, controlla l'unicità che non si è già aspirato, la fa passare, se è così, oppure, la blocca dicendogli, il token, già usato, eccetera, questo ci permette, normalmente, di, di evitare, di, vedete, la configurazione, potrebbe essere questo, chiaramente, io ho fatto un altro, mio servizio, quindi, ho separato completamente, la mia business logic, identificazione dell'utente, creazione sessione, e, sicurezza, con il CSR, ok? E li ho fatti, comunicare, in questo modo, nessuna linea di codice, esistente, è stata modificata, abbiamo aggiunto, le linee di codice, e cambiate, per fare configurazione, e, premente, esattamente, il certo, quindi, io, mi testo, mi testo, fashion manager, controlla, funzionare, l'unico, testo, che potrebbero fare, dovrebbero essere, quelli, i tuoi manager, hanno osservi, ma quindi, chiaramente, hai raggiunto, il controllo di sicurezza, e poi, la volta, ci speriamo. Per esempio, tre registrazioni, qua, è un po' più veloce, per esempio, abbiamo segnato, se volessimo aggiungere, il CSR token, testo, ce l'abbiamo già, lascia scrivere, la, la, il check, ed è fatta. Se volessimo, l'utente è già allugiato, il fashion manager, l'API del decoratore, il post, ce l'ha già, quindi, basta leggerlo, nel post, nel decorretto. Tanto, avevo detto che, il fashion manager, legge solo, gli user IP, basta che, assegnato, l'editore del user IP, ti, tutto il giro, faccio. Cioè, l'interfaccia, non è che, non è che, l'interfaccia, l'interfaccia, se non vengono mantene intercorrenti, il micro-service, il corretto, il programma incontro, e il mail di benvenuto? Nuova feature, al lato della registrazione, vogliamo implementare il mail di benvenuto, perché, adesso non abbiamo mandato il mail di benvenuto, cosa facciamo? Andiamo a modificare l'out service modo che, manda il mail di benvenuto? No! Aggiungiamo a fare le cose chiaramente che hanno tolge un post chiamato il mail mail che non blocca la richiesta, è semplicemente un MOOC a singolo, un decortore a singolo che studisce il mail in web. Quindi, lo sfogo è aggiungere i componenti senza la registrazione dalla sessione, la registrazione dalla sessione, la registrazione dal check sul CSRF token, aggiungere aumenta l'edificio, che deve aver fatto. Cioè, all'inizio, nel business logic è registrare un cliente come, a virgolette, rega poco del check di sicurezza, il check di sicurezza, lo posso fare in maniera incrementale dopo, lo posso dare ad un altro team addirittura. Distrigra tutta la tua architettura, le tue comunicazioni per i microservizi, in un'unica forma di configurazione. L'ultimo esempio che andremo a affrontare è l'integrazione per i sistemi del business. Nessuno di noi ha mai, purtroppo, lavorato solo sui cosiddetti greenfield. Esiste sempre un servizio legacy che ha fatto il suo lavoro quindi, lato business ti dicono, perché mai dovremmo andare a toccare un prodotto che fa soldi che funziona, che ha sempre funzionato, ha fatto bene il suo lavoro, il cosiddetto monovita in realtà ho preso il monovita perché quello che conosciamo, potrebbe essere veramente il nostro sistema microservizi, legacy, eccetera. Però io voglio aggiungere tonalità all'ambiente tre requisiti. La lupia in vecchia non deve smettere di funzionare, chiaramente. I nuovi microservizi sono microservizi, i nuovi servizi sono microservizi, e il metodo di applicazione è diverso. I nuovi microservizi non accennano da travesti delle sessioni del servizio microservizi, che chiaramente evitiamo di toccare anche da travesti delle sessioni. Supponiamo quindi di avere da noi microservizi un servizio di autenticazione a Question Manager, più o meno come è la propria prima. I client hanno una decisione dei cookie coerente, come se fosse un browser. Quindi, diciamo, non accedono a cookie o non li modificano. Se servono e se fanno i punti, loro ce l'hanno, loro lo mandano una chiamata successiva, come se fosse un jar. Tutti i servizi, i nuovi microservizi, sono serviti a KPPT. Questa è una restrizione che abbiamo messo nelle slide, ma in realtà potrebbe essere anche sulla KPPT, non anche un ingegno, potrebbe essere un RPC, un ingegnere RPC, in questo caso. Supponiamo quindi di avere un servizio che si dispone due. SlashLogin, le dati dei credenziali mi ritorna l'usure di, o evo che da, o qualsiasi cosa, diciamo, dei cookie di sessione, SlashMe, le dati cookie mi ritorna, diciamo, di solito è sempre implementato uno SlashMe da qualche parte in servizio silenzio. Nei servizi nuovi, invece, vorremmo dell'authentication server, come BusinessLogic, diciamo, traducesse delle credenziali user ID, e il session manager, dello user ID, con sessione della sessione modica. Sessione modica, che potrebbero essere QT, GWT, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Qui, volendo, dovremmo utilizzare il servizio legacy dei QT e un servizio modo GWT. Questi sono gli antologi con il nostro servizio legacy, il mio microservizio vero bianco, che non si capisce nella slide ancora, ma quello è il mio decoratore, e il session manager. Quindi, parte la post su SlashOdin, parte la post su SlashLegacy, mi ritorna della roba che io non ho intenzione di leggere diciamo, roba, job, più un sit, un sit, che serve su SlashLegacy, quindi tutte classi di servizio dell'exemple. Ho istruito il mio decoratore, in modo che il sit, in modo che le importe le cani di pubblico, che implementa la specialità con il cookie che mi ha passato, esattamente quelli che vende il servizio legacy mi ha passato. Quindi io so chi è, tutte le, crea la sessione, ed elettroni, con il blog che il servizio legacy ha ritornato. Io non li ho trovati, quindi client, diciamo, non funzionano tutti, io sono sicuro che funzionano tutti. Il cookie, che per chi il servizio legacy mi aveva settato e sono convinto, siccome non ha toccato niente, che l'autenticazione sui servizio legacy continua funzionando, e in più un sit2, o un sit, diciamo un nuovo sit, che è il nuovo servizio di servizio. Quindi quando il mio client chiamerà di nuovo il mio server, la seconda, se chiamerà il servizio legacy, il servizio legacy andrà a ritornare il sit2. Il nuovo, invece, il mio servizio andrà a ritornare il sit2. In questo modo io ho copiato due critiche di identificazione, se il mio servizio arriva solo in sit2, o quale? Beh, in teoria non è possibile. Nel senso che, dipende se l'expire date di uno, se uno si loga col legacy. Si, no, si loga col legacy, ma entrando sempre tramite un micro servizio, che è il mio nostro micro servizio di decorazione. Quindi nel senso, io ho mappato la decca del hash login, che andava su legacy, l'ho rimappata, lato weekend, diciamo, su il mio micro servizio, che implementa la stessa identica interfaccia HTTP del legacy, quindi passa su tutto, rende tutto e lo spedisce su. L'interfaccia dei client equity e dei loro funzionali. Questo potrebbe essere il nostro esempio della login. Chiaramente possiamo aggiungere altri decoratori pendentari che ci sono implementate. Per esempio, se vogliamo implementare CSRF token check, lo possiamo fare. Perché basta aggiungere, veramente i client qui si è fatta, no? L'importante è appunto non toccare sapere. Si dipende, chiaramente, il cambio di interfaccia, lato client, come quel check lì fa. Chiaramente tutti i client non funzionano più. Però io sono sicuro che il mio servizio dei client legacy non funziona. Se il mio servizio legacy non implementa l'invio di elementi, per esempio, sulla registrazione, eh, legacy e il mio servizio di schema, no? Dico. I coni, non so. Lo posso mettere in posto, senza andare a toccare il servizio vero. E la documentazione, perché non dimentichiamoci che la documentazione è importante, anzi, statistiche dicono che forse il 40% del lavoro fatto dalle documentazioni o correzioni, la documentazione, le specifiche sulle sue documentazioni. La contribuazione di un servizio decorator è una documentazione. Perché, davanti della share, questa è una documentazione di flow, di flusso. Cioè, io posso dire, bene, mi decidi le volte che tu implementi, i check che implementi. Per esempio, questo potrebbe essere, questo è il check su flusso. in posto. Io ho detto che voglio implementare il check sul CSF token e la creazione della session. Quindi, la documentazione, questa è l'interno. So che contatto, in fondo, il legacy, prima faccio un check sul token di sicurezza e poi per la sessione. Questa è l'interno. Quasi finito, abbiate pazienza. Domanda, quale flusso implementa questa contribuzione? Questa è, costumatamente ho dato dei nomi, tra i virgolati dei certi, capibili, forse, spero. Per cui, io chiamo su post slash orders, quindi, a parte che parlo di ordini. E il mio flusso è, controllo che ha disponibilità dei clienti. Controllo, è un indirizzo. Vado a finire su order service slash orders. Poi, faccio un pagamento. Marco, lo abbiamo, come è pagato. Notifico l'utente della vendita, e notifico degli inventori. Il fatto dei nomi, come vi consegno. Qualmai flusso, potrai diventare la competizione. E anche se non lo so. Quindi, questa è la documentazione. Questa può essere utilizzata per i nomi. Grazie. Applausi. 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 Formale? No. In termini di loro, come si... In termini di rapporto? In termini di rapporto. In termini di rapporto. Per loro neanche farà... In termini di distribuzione. Permettendo che le tradutture distribuite sono essenziali, essenziali, essenziali è una propria parte essenziale. Un po' più già. Per le traduzioni, quasi male. Essenziali. Sono comode. O magari un educatore che aveva il tipo di loro. Quando si lavora nei conservi di similità, la traduzione è la, diciamo, da un po' perdersi. Se non gestita all'interno dell'industria. L'esempio di prima, sull'ordine, per esempio. Creo l'ordine. Parlo. Marco l'ordine. Quella, in teoria, può essere una transorganità. Qui, diciamo, è un design architetturale. Opinabile. In qualche... In qualche... Realtese. Sbagliata addirittura. Oppure... Giusto. Perché... Quindi, in fondo alle cataglioni. Io posso inserire l'ordine, il livello di quadra non è completato. Far pagare l'utente, su unico servizio e pagati. Marcare l'ordine come pagate. Questo mi crea, non a causa della personalità, che è un'altra cosa, ma mi assecura uno stato consistente all'interno dell'industria. se ti rompe il marco, che ti rompe il regalo, che è un regalo, che è un regalo, che è un regalo. Però, al di là della transorganità, non voleva essere una domanda vero. Cioè, il fatto che poi ti rompe il marco l'ordine, come decorare poi la risposta verso io? Cioè, ti rompe tutto il flusso, volte... Cosa succede? Eh... Nella nostra implementazione di questo pattern, abbiamo scelto che, se il decoratore non implementa l'interfaccia HTTP, che è il micro, da un altro posto, diciamo, spettare una pietra, allora è un 100% che è passata. Nel senso che, quell'ordine è stato pagato, ma non sono riuscito a mangiarlo. Difficilmente, in realtà, cioè, o c'è l'armaghello, in realtà, da lestino, che ci sta, in un network, che non funziona, o qualsiasi cosa, succede sempre. Eh... Quando vai a fare questo tipo di operazioni, eh... chiaramente, hai questi... Eh... Un'altra scelta, perché resta quella di accoppiare, e questa chiaramente è una scelta attenzionale, di accoppiare, il servizio ordini, o il servizio pagamenti, e gestire all'interno, l'analizionalità. E' un gruppo di... No, no! Nel senso che, questo partner, dà aiutare un certo punto. Quando vuoi gestire, l'analizionalità, eh... non c'è santo che venga, la devi gestire, se devi, che gestiamo, l'analizionalità, potrai gestire. Eh... Questo partner, appunto, quando, l'interfaccia, è unito servizio, quindi, non riesci poi a recuperare. Probabilmente però, ti puoi, riservare, appunto, in ascolto, un servizio, tipo quantità. Oppure... nel momento in cui, ti si presenta un 500, tu comunque, salvi che hai l'ultimo 500, su qualcosa che non sia ancora da dentro, e poi dopo, vai a riverificare, hai un task che va a verificare, che ci sono stati 500. in realtà, oppure, metti in mezzo, un servizio, poi, non è di più di un servizio, ma non lo chiede, in realtà, al di mezzo, un po' da servizio. Cioè, in un servizio, in realtà, in realtà, in parte, ma capite di dire, un servizio, chiuso, e, intanto che, un worker, una nuova schedula, lo lavora, e, inizia il decoratore. Quello è, tipo, quando si lavora un po' a me, inizia il servizio, diventa complicato. Sì. Sì. Sicuramente, domanda. Quanto è un figurativo, questo appello? No, perché le nostre, bene, non sono così, i decoratori di credito, i decoratori di costi, sono iniziali di S, ci possono essere, degli errori, di teco, ok? Ma, tipo, orchi di orchi, se gli dico, se sbaglio, scrivo la notifica, del delivery, scrivo il payment, se il payment va in errore, cosa succede? Ecco, ottima domanda. Sì, nell'altra implementazione, ma direi, più o meno, nel fatto, di metterlo come delinquono, se un port, all'inizio, non vengono chiamato bene. I costi sono sequenziali, uno dopo l'altro. Non sono concorrente. Al di ret, sono uno dopo l'altro. E quindi, io, devo finire la fine del pagamento, chiaramente, per marcarlo come pagato. Una volta marcarlo come pagato, un tipico utente, tanto che nemmeno, quel che l'è, e poi, un tipico utente. Però, tipo la catena dei post, configurata così, non c'è nessuno che, che effettivamente, debba essere configurato bene. Cioè, se io entro, inverto l'ordine di, nei payment, e me, ma, 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 per esempio, chiaramente, questa configurazione, quindi, tenere conto, che chi la modifica, deve rendersi conto, di che cosa facendo. Cioè, io potrei mancare, l'ordine pagato, poi modificare i tempi, e poi modificare i tempi, e poi... No, no. Cioè, io, però, l'ultimo, c'è sempre, in quanto faccio. Quindi, ecco, sbaglio, l'unica cosa, che ti garantisce, di aver fatto, la cosa giusta, non testa. Quindi? Che, mi indica, per esempio, un ordine fallito, se l'ordine fallisce, non deve inviare niente. Quindi, le, 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 le configurazioni, pre e post, la chain, non testate in qualche modo. No. Eh, noi, diciamo, la trattaforma, la nostra, la mia, abbiamo tool che ti testano, ed aiutano, diciamo, il giocatore, a testare, le varie catette. Ok, ok, spero chiaramente, questa configurazione. Sbagli il signore del produttore servizio? Mi fanno un certo di? No, facciamo la domanda da Andrea Pant. Ah, per bene. Ma, quindi, voi vi siete spretti, se avessi dispretto questo DSR qua, vi siete fatto un affare che lo legge, perché vi fai un micro servizio che fa queste cose qua? E peraltro, noi abbiamo fatto un micro servizio configurabile, che accetta questa come configurazione genere bot in input genere 3 farla chiamata dopo quando arriva una chiamata sa se c'è il sito perchè qui ci sono solo e tutte le urne che c'è il sito applica la configurazione di programma scrivendo altra parte così io qui per esempio potrei avere slash sign up slash login che condividono lo stesso lo stesso l'equatore in pop per esempio la gestione della sessione certi siti dopo che ti hanno registrato ti logano e quello è un riutilizzo del micro servizio altra cosa fondamentale che avevamo citato all'inizio è un riutilizzo del micro servizio difficile da fare ma questo fatto è in cui segregano aiutando a segreare diciamo le competenze e aiuta anche in assoluto ad avere un accessimento di quello che c'hai sicuramente e come all'utilizzare buono grazie mille grazie mille grazie mille